Le parole d'ordine di oggi sono distanziare e sanificare. Dopo la giornata di vengodi di ieri dove a frequentare i soliti posti dello struscio sembrava essere arrivati alle scampagnate del primo maggio in barba ad ogni prescrizione di evitare le forme di assembramento di situazioni di promiscuità, quelle proprio in cui il virus sguazza a piacimento e che inevitabilmente ci hanno portato a questa situazione pesante in cui le strutture sanitarie locali sono in sofferenza. Oggi forse anche la sveglia degli otto decessi in provincia su dieci nelle Marche e gli oltre 320 casi positivi al coronavirus ha suonato forte su tutti sia pesaresi che fanesi per cui l'atmosfera e la sensazione sin dalle prime ore della mattinata è stata quella di un lunedì mattina molto anomalo, poca gente in giro, statale insolitamente senza traffico intenso e un clima sonecchiante in generale e forse più persone dentro casa. Per osservare i chiari segni però dei sostanziali cambiamenti alle nostre consolidate abitudini quotidiane è bastato andare nei classici posti, poste, supermercati e farmacie dove le persone in composta attesa fuori dai negozi stava ad indicare che l'ingresso agli stessi era contingentato per assicurare a tutti il rispetto delle prescrizioni di sicurezza ovvero la fatidica distanza di un metro e l'ammassarsi tutti insieme in un unico punto. Noi già dalla settimana scorsa abbiamo predisposto i cartelli come indicazione del DPCM, abbiamo predisposto gel a ingressi per gel inigienizzanti, abbiamo messo anche delle strisce nel pavimento per aumentare ulteriormente la distanza delle persone dal farmacista e siamo in attesa anche di installare dei pannelli in plexiglass per aumentare un pochino la protezione per il personale. La farmacia come le poste, gente che aspetta fuori e ingressi controllati, tempi che si allungano quindi per fare ciò che fino a ieri facevamo senza troppo pensarci su ma anche oggi invece assume una dimensione quasi caffiana dove si subisce qualcosa che avremmo volentieri evitato, come stare fuori dal supermercato con il carrello in mano aspettando di varcare la soglia. Un po' di difficoltà c'è perché comunque il disagio i cittadini ce l'hanno, noi cerchiamo di allegorarci facendo entrare un po' alla volta le persone e facendoli aspettare fuori. Quante ne fate entrare a volta? Abbiamo deciso di farne entrare una trentina e dopo uno entra e uno esce. I numeri aiutano un po' fuori? I numeri aiutano sicuramente, così evitiamo disguidi vari. Le merci, l'approvvigionamento c'è regolare? Quello è regolare, non c'è nessun problema.